Io ho presentato Bello Figo che è un rapper si chiama in realtà Paul Yeova, giusto? Io canto cose che esistono, c'è... poi c'è poi la loro... E' la verità, lei dice quindi io canto, ma ne ha fatte altre, no, di canzoni? Assolutamente, sì. Swag, barca, appena arrivati in Italia, abbiamo, casa, macchine, fighe. Rovazzi, rovazzi, rovazzi. Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante. Mi parli dei problemi e della tua vita stressante. Dove vengo aggredito a Romics? Perché si parla di aggressione dai cornetti con la Nutella. Dato che ho letto dei commenti dove dicevano ma sarà un ragazzo di 18 anni. Io non volevo farlo questo video. Sapete, io ne ho parlato con Vegas. Non hai fatto un cazzo per proteggermi. Di non farceli metà rosso e metà verdi perché sarebbe uscita una scenica. Quindi io me li faccio rossi e lei verdi. Io me li faccio rossi e lei verdi. Io me li faccio rossi e lei verdi. Che significa? Ma è calato giù. Ti è cascato dove danco io? Sì. Allora facciamo così, anziché qua cerco gli indovinati. Ma il problema non è Renzi. Renzi è una fedina. Ma il problema non è Renzi. Renzi è una fedina. E di aumentare le pensioni di invalidità solo se rispetta le identità. Ma di Messi c'è vergogna di. 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 Come era evidente è scontato. Fin dal primo giorno l'esperienza del mio governo finisce qui. Sento un bing dong. Era il postino, il corriere, l'uomo che con il suo pacco avrebbe cambiato la mia vita. Dentro il voluminoso pacco del postino c'era questo.